Se non siete di quelli che si impressionano facilmente ma avete sangue freddo, le vacanze potreste trascorrerle in Siberia, dove ammirare la Porta dell'Inferno, una vera e propria voragine verso il mondo sotterraneo in una delle zone più fredde della Terra. Il cratere Batagaica ha iniziato a formarsi negli anni 60, ma è andato incontro a rapidissime trasformazioni a causa degli altrettanto veloci e pericolosi cambiamenti climatici. Un team di ricercatori ha stabilito che l'incontrollato aumento delle temperature ha determinato lo scioglimento del permafrost della taiga siberiana. All'interno della Porta dell'Inferno, i paleontologi hanno rinveruto i resti di un bisonte, di alcuni cavalli e di un mammut ed è stato scoperto anche un altro cavallo risalente a 4.400 anni fa. Il professor Giuliano Martin, presso l'Università del Saxe, ha inoltre stabilito, a seguito di diversi rilevi sul posto, che l'età del cratere è di 200.000 anni. Si estende per un chilometro e scende in profondità per 100 metri. Inoltre la crepa risulta perfettamente esposta e ogni strato è perfettamente visibile. Il Batagaica Crater si allarga di 15 metri l'anno e gli abitanti della zona hanno paura ad avvicinarsi all'immenso crepaccio nella terra da cui si sentono suoni spaventosi e terribili.